Dejanira Marzano a pomeriggio 5 ha ribadito e aggiunto nuovi dettagli sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provedi Ecco che cosa ha detto l'influencer.Grande fratello VIP, Giulia Provedi tradita dal fidanzato? Il gossip circolava in rete già da un po'. A portarlo da Alfonso Signorini è stata l'influencer Dejanira Marzano, la quale ha detto di aver visto all'Hollywood di Milano Pierluigi Gollini che ci provava con diverse ragazze fino a lasciare la discoteca in compagnia di una bruna Giulia Provedi è stata informata di tutto questo nell'ultima puntata del grande fratello VIP Pierluigi Gollini ha tradito la fidanzata. Non ci sono foto e video a sostegno di ciò che dice Dejanira, ma Giulia Provedi sta vivendo una profonda crisi Pomeriggio 5, Dejanira Marzano conferma e aggiunge altri dettagli sul presunto tradimento di Gollini Dejanira Marzano è intervenuta attraverso un videomessaggio a pomeriggio 5. In questo video, la blogger ha ribadito di aver visto il portiere dell'Atalanta flirtare con diverse ragazze all'interno della discoteca, e di averlo visto incappucciarsi e uscire con una di queste Non solo, ma quando poi ha reso pubblica la vicenda ha ricevuto una serie di messaggi di altre donne, che parlavano in modo non molto carino del ragazzo Dejanira ha anche aggiunto che erano presenti molti VIP che possono intervenire e confermare tutto Giulia Provedi e Pierluigi Gollini al Capolini a punto di domanda.Pierluigi entrerà in casa per affrontare l'argomento. Giulia sta vivendo delle crisi di pianto molto forti, mentre lui, dopo il dibattito della scorsa puntata, ha postato una frase su Instagram Giulia sei fortissima. Così come lo è il nostro amore, ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti, io ti aspetto Che cosa succederà tra Giulia Provedi e Pierluigi Gollini?